Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, la scoperta dell'acqua galda, Beppe Severnini, è una delle firme d'oro del Corriere della Sera, qua c'è il suo ultimo intervento, l'intervento odierno, i leader sono colpiti dalla sindrome di Kurz, il cuore di tenebra della politica e questo mastodontico articolo inizia in prima pagina, c'è proprio detto in prima pagina, che poi invia a pagina 31 del Corriere della Sera di lunedì 18 novembre 2013. Che cosa ha fatto? Cosa ha fatto l'amico Beppe Severnini, firma d'oro del Corriere della sera, ha detto beh, qua Angelino Alfano è stato cacciato via da Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi prima aveva cacciato via Gianfranco Fini, poi prima ancora aveva cacciato via Pio Ferdinando Lucasini e i leader si isolano, non vogliono un'erede, un'erede e allora ha fatto una grande pensata Beppe Severnini, ha pensato al celebre romanzo di Cuore di Tenebra, Cuore di Tenebra di Yosef Conrad e con le questioni politiche, successioni, c'entra come i cavoli a Merenda, capito Beppe Severnini? C'entra come i cavoli a Merenda, perché Cuzzini si era isolato nella foresta, era diventato come una sorta di dio per gli indigeni, ma mica doveva pensare a una successione, Beppe Severnini, allora la scoperta dell'acqua calda e ti fa qua un servizio, tira fuori pure la sindrome di Cuzz, non esiste la sindrome Cuzz, l'ha inventata Beppe Severnini, ma non ci credete se Beppe Severnini questa locuzione sindrome di Cuzz non se la ricorderà più nessuno da domani, capito? E qua parla della deriva conradiana, pensate un po', chi non l'ha letto, chi non l'ha letto i romanzi di Joseph Conrad, la deriva conradiana, e cioè in pratica Beppe Severnini, acchiappa il romanzo di Joseph Conrad, intitolato fuori di tenebra, e ci fa la cornice, una cornice per inquadrare gli eventi politici attuali, dove vediamo per esempio che Beppe Viglio non c'ha un'erede, Tonino Di Pietro non c'ha un'erede, signor Beppe Viglio non c'ha un'erede, eccetera eccetera eccetera, la sindrome Cuzz, ma Beppe Severnini, caro Beppe Severnini, allora visto che fai questo sfoggio inutile di cultura, di cultura, perché non gli dici ai tuoi lettori, ai tuoi lettori, eh? Non gli racconti la storia di Urano, Urano, ne parla Esiodo, Esiodo, il quale Urano ammazzava tutti i suoi figli, capito? Tutti i suoi figli, Urano ammazzava tutti i suoi figli, e invece di fare riferimento a Joseph Conrad, era meglio che facevi riferimento alla mitologia greca, così come è stata scritta da Esiodo, poi anche da Omero e da tutti gli altri mitografi, il Dio Urano che uccide tutti i suoi figli. Poi un figlio miracolosamente si salva, si chiama Kronos, Kronos e Kronos e vira, e vira il papà Urano, capito? Poi Kronos a sua volta ripete la storia del papà, e anche Kronos ammazza i figli, ma si salva Zeus, e Zeus lo spodesta il cattivo papà Urano. E perché non ci parli del grande mito ebraico cristiano, della lotta degli angeli ribelli contro Dio? Il Padre Eterno aveva creato gli angeli, le schiere angeliche, e nelle schiere angeliche il suo figlio prediletto si chiamava Lucifero, Lucifero vuol dire portatore di luce, era l'angelo più bello del creato. L'angelo più bello del creato si era ribellato nei confronti del Padre Eterno, e ci fu una grande guerra in cielo, una grande guerra in cielo. E poi il Padre Eterno sconfisse Lucifero gli angeli ribelli, e li cacciò giù nell'inferno che venne creato proprio in quella circostanza. Ma che cosa vai a tirare? In ballo il povero Joseph Corrant, Cus, Cus, cuore di tenebra, la sindrome corradiana, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma che vergogna, Beppe Severnini, ma che vergogna, ma che vergogna. Vabbè cari amici, vi lascio sempre mostrandovi quest'opera cari amici, che è questo formidabile e-book, intitolato dal matriarcato al patriarcato, capito? Che si trova su iTunes, della Apple, iTunes, della Apple cari amici. Grazie cari amici se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni. Grazie.